taro riposa con i suoi fratelli adesso immagino che anche la corruzione nella foresta sia sguanita e come avevamo specificato ragazzi i fratellini non ce l'avevano detto in qualche modo non hanno avuto un passato travagliato perché non avevano il fardello della responsabilità del fratello più grande però avevano dietro la maschera quando noi parlavamo con loro e quindi 2 più 2 ahimè anche i fratellini erano depunti liberando il fratello più grande siamo riusciti a dare libertà a tutti e tre è naturale che si crea un legame con gli spiriti che aiutiamo rinunciamo a una parte di noi stessi quando se ne vanno ma il legame rimane il percorso di una guida spirituale è fatto di solitudine c'è ancora del lavoro da svolgere se desideri raggiungere il santuario della montagna un abile artigiana viveva un tempo nel nostro villaggio costruiva strutture che superavano ogni immaginazione cerca il suo spirito tormentato nei campi oltre il magazzino maschera di adira firmato firmato puoi salutarlo subito avrai bisogno di più energia per muovere quelle rocce l'energia non scorre più qui da molto tempo la terra è iniziata a guarire è questo che stai facendo mi chiamo kena mi chiamo ben e saia a liberare lo spirito di taro sono andata ad aiutare l'artigiana la conosci? si conosco adira era una grande artigiana insieme abbiamo trovato un modo per catturare l'energia del santuario della montagna credeva che potessimo sfruttare le risorse di questa terra per sostenere i piedi ma quel sogno è svanito molto tempo fa ci siamo appena conosciuti ma posso dire che hai un forte legame con il regno dell'esperimento questo senere è il villaggio per sempre porti con te la stessa energia che scorre in queste radici deve essere quello che ti ha trattato in questo posto concentrando ti può raccogliere quell'energia ragazzi andiamo a scoprire cosa ci aspetta dopo questa porta mi mancano solo quei due da fare ti sei platinato il 2021 bro fai paura che grande grazie a tutti Sono sorelle Amiche Un ricordo Un ricordo Andiamo a bussarci il ricordo Adira Pensi che resteremo qui per sempre Invecchiare in questo posto Erano compagni Erano innamorati ragazzi Interessante La corruzione si è stesa a quella struttura Dovremmo cercare lì un'altra reliquia Questa è la nostra cucina A dire io abbiamo trascorso innumerevoli ore a lavorare lì Quanti bei ricordi Questo sentiero sale sulla rupe Ma ci sono detriti che bloccano la strada Avremo bisogno di qualcosa di grande per liberare il passaggio Eccoci signorina Il cuore è indebolito Liberiamo da questa corruzione Io non ho capito chi è sto bue però Sarà un bue meccanico Vado? È un bue di roccia Tipo capito? Mamma mia Un bue è una bestia Rufus Rufus Stai bene? Non ci posso credere Come stai ragazzone? Guardi Rufus E' facile tu, vecchio amico Sono felice di vincere te Questo è Kena Cosa è qui per aiutare Adira Questa è Kena E' per aiutare Adira Sembra un po' ruda Ma in fondo È un tesoro È una cosa piccola campana ragazzi il reliquia per la tira e dagli ce ne mancano due ai rupus levati frate, levati sorelle, levati non ci arriviamo alla cucina ragazzi ci fermiamo prima perché tanto c'è sicuramente la strada per bloccare la porta bella rufus non sei più un ragazzino ormai ci vediamo alla cucina dopo che avrai eliminato la corruzione grazie 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 grazie